L'euforia dei primi pellegrini è già palpabile. 7.000 almeno i ragazzi che arriveranno dall'Italia accompagnati da una quarantina di vescovi decisamente più numerose e non potrebbe essere diversamente le delegazioni dall'Argentina, in primo luogo in generale dall'America Latina. Tutto è pronto ormai per la giornata mondiale della gioventù a Rio de Janeiro, Brasile. Una settimana ricchissima di iniziative a partire da quando lunedì sera Papa Francesco arriverà a Rio. E se quello che troverà sarà un paese attraversato soprattutto negli ultimi tempi da fortissime tensioni, come suo costume ormai le affronterà senza particolari precauzioni. Dunque nessuna blindatura, una semplice jeep bianca per girare fra le farelas e la speranza è che anche la provvidenza faccia la sua parte. Oggi intanto a Roma la receta dell'ultimo Angelus prima di partire, mentre nelle stanze vaticane si commentano le ultime indiscrezioni sull'altra rivoluzione che Papa Bergoglio sta nel frattempo compiendo. Quella della curia e delle finanze pontifice. Lo Iori insomma, che continua a essere oggetto delle attenzioni del Papa al punto che se ne mette persino in discussione l'esistenza stessa, non prima di averne ben chiaro il quadro, grazie anche alla commissione istituita ai primi di luglio per vigilare appunto sulle finanze. E poi ovviamente la scala gerarchica della struttura curiale al cui vertice da tempo si dice dovrebbe essere rimosso il segretario di Stato, quel cardinale Tarcisio Bertone ormai considerato fuori dai giochi, ma senza strappi. Sarà a Rio infatti il cardinale Bertone, forse ultimo omaggio, se si preferisce gentilezza nei confronti di Ratzinger, che Bertone aveva voluto accanto e difeso più volte. A settembre si volterà pagina però addio ai principi della chiesa e largo ad una gestione più collegiale, sperando di fare ovviamente meglio.